Siamo alla stazione e stiamo per partire. Siamo alla stazione. Siamo alla stazione. Ma dove volete andare? Carlo, vi proiettisco di partire. Prendi subito il tacitino e veni subito a casa. Tu, parlami a giù. Permette, faccio unire. Permette. Sì, adesso ci parli. Ci parli. Pronto? Sì. Pronto? Gabriela, sei tu. È Gabriela. Gabriela, qui è la voce di tuo padre che parla. Ti prego, ti scongiuro, ti supplico. Non partire. Non partire. Non ci raccomandi, glielo imponga. Glielo impongo. No, papà, è troppo tardi. Andiamo via. Ci sposeremo. Sì. Già, il treno sta per partire. Oddio, un fischio, un simbilo. Il treno ha fatto... Parte. No, fatelo fermare. Fermate quel treno. Foghisti, macchinisti, uomini di fatica. Un facchino, mi vado a chiamare in capo stazione. Gabriela. Il treno parte. Gabriela. Chiamatemi Gabriella, ci sono saleroso. La regola è cadattura di coda.